beh allora visto che come ho anche scritto nel mio canale canale moda così diciamo per dire comunque a parte questo io sono un studento universitario ormai inizio l'università diciamo che non continuo più con queste cose perché fra poco perché devo iniziare l'università e diciamo che preferisco più fare l'università che questa cosa quindi fine della storia intanto però visto che l'unità giga comunque già o mal l'ho iniziata salvato dalla sesta parte sono arrivata che l'ho pubblicata due giorni fa ovviamente finirò la tutta l'unità tutta l'unità giga e da giga poi adesso sono un po di temo fevo perché come state vedendo sto potenziando a ripetizioni i miei mutanti in modo tale da poter comunque usare più mutanti e quindi avere una strategia migliore anche nelle varie cose sì come si può notare nel 2018 sono stato capace di avere britti solo nel 2018 ma vabbè è un'altra questione e quindi quelle quindi quelle parti vabbè non so quanto verranno perché comunque è veramente difficile non riesco a minire se non sprecando un po' di soldi d'oro per poter vincere determinati livelli e inoltre a volte diciamo che il mio programma per registrare fa un po' un po' l'idiota perché lo stupido fa proprio l'idiota e non si mette a registrare quindi fine della storia soltanto perdendo tempo per allungare il brodo ma potenzio ai mutanti e allora nel valore 100 mi metterò a studiare per l'università che oramai inizia ciò che deve fare questo metterò inizia adesso e prima o poi riuscirò a finire le unità gighe e le porterò fine finiamo in bellezza con l'ultima vittoria che come vedete è divertentissimo potenziale di mutare divertentissimo spero che non sono l'unico che si diverte così tanto a potenziarli sai che è bloccato il mouse che è un po' è bloccato il mouse così perfetto mette anche un po' di volume così almeno beh ciao ciao